Mentre si continuano a diffondere notizie che alimentano la paura da Covid, si parla sempre meno della capacità del servizio sanitario di garantire adeguata assistenza ai malati. E' intorno a questa sintesi che ruota il discorso dell'ex direttore sanitario del Luigi Curto Nunzio Babbino, che sottolinea come, ad oggi, vengono diffuse continue notizie sui casi di contagio alimentando la paura, mentre si parla poco della gestione del servizio sanitario. Sottolineando come il numero dei positivi dipende molto dal numero dei tamponi che vengono effettuati e che tra i positivi soltanto il 5% sviluppa la malattia, l'ex direttore sanitario evidenzia anche come, in molti casi, ci si trova di fronte a falsi positivi o falsi negativi, dati che impongono anche una seria riflessione sull'affidabilità dei tamponi. La ricerca ossessiva di positivi, scrive Babbino, non aiuta, anzi spaventa e mette paura, soprattutto se la conta dei tamponi viene protratta per un anno intero e forse anche oltre. Serve quindi un cambio di passo in un momento che, l'autore dello scritto, paragona ad una guerra da vincere ma non usando l'arma della paura, un passaggio fondamentale per sottolineare l'importanza di un servizio sanitario efficiente e capace di garantire le cure per tutte le patologie. Ormai, scrive il dottore Babbino, tutti sappiamo che il numero dei positivi cresce con l'ammontare del numero dei tamponi eseguiti. Sappiamo che non sono malati ma persone come noi. Da domani diteci invece se gli ospedali sono stati potenziati e come, con quale nuovo personale e con quali nuove attrezzature. Diteci se la medicina territoriale ed il trasporto infermi sono stati potenziati. Soprattutto diteci se i tantissimi malati affetti da altre patologie che pur esistono e ce ne siamo dimenticati, trovano facile accesso alle strutture ospedaliere e sono curati con la dovuta tempistica ed attenzione. Per non avere paura e temere per la nostra salute, continua Babbino, vogliamo sapere se gli interventi chirurgici programmati vengono eseguiti normalmente e se le visite ambulatoriali vengono garantite. Abbiamo bisogno di informazioni corrette per non avere paura da Covid. Evidenziando come una guerra non può essere vinta semplicemente bloccando attività commerciali e lavorative, sottolinea come per vincere contro il Covid c'è bisogno di serenità e soprattutto di fiducia nel sistema sanitario nazionale. Sicuramente, dichiara l'ex direttore sanitario, potremmo vincere la guerra con una informazione seria, avendo consapevolezza che seminare la paura indebolisce da nulla le capacità di contrasto alla malattia. Vogliamo sapere della malattia, della sua capacità di compromettere la salute, della sua effettiva letalità, di come evitare il contagio, oltre le mascherine e il distanziamento. Da qui la richiesta di invertire la rotta, un cambio di passo sulla strategia della paura, come annunciato anche dal Vice Ministro della Sanità.